Una protesta plateale per accendere i riflettori sull'ospedale di Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese si è incatenata dinanzi al Santa Maria della Speranza per evidenziare le carenze di organico del nosocomio e denunciare le promesse disattese da parte dell'ASL. Mi dispiace dover ricorrere a dei gesti così eclatanti come quello di incatenarsi davanti a questo ospedale. Ma questo ospedale, questa città, la Piana del Sele, i colleghi medici, gli infermieri, i tecnici, i biologi esigono rispetto e da tanto che stiamo lamentando la mancanza di infermieri, di medici, reparti che sono stati dimezzati a causa del Covid, ma persone che stazionano nel pronto soccorso da giorni per essere ricoverati. Eppure abbiamo dei reparti chiusi. Francese ha chiesto un incontro urgente al direttore generale, ribadendo l'intenzione di portare avanti la protesta fino ai vertici regionali. Più volte abbiamo chiesto al direttore generale, che ormai fanno tre anni quest'anno che si è insediato, di venire a vedere di persona quelle che sono le difficoltà che noi abbiamo in questo ospedale. Io non me ne vado da qui fino a che il direttore generale non dice, non prende atto e non viene. Carenze d'organico che hanno reso difficile anche la gestione del Covid in crescita nel Salernitano e anche per questo che a Salerno gli operatori del mercato di Torrione hanno deciso di organizzare uno screening per proseguire in sicurezza la propria attività. Il Covid si sta facendo più aggressivo, si è spento padre Riccardo Sommella, 97enne che era stato per 44 anni cappellano del carcere di Furni.